Vogliamo parlarti di Gesù Sto qua con voi nella presenza del Signore Quindi chiedo a Franco Giotola di guidarci in preghiera Amen, alleluia Gloria al tuo nome Signore, alleluia Signore caro padre, noi questa sera siamo gioiosi e ti vogliamo ringraziare Signore perché ancora una volta ci hai dato la possibilità di essere insieme riuniti Signore ma siamo gioiosi perché questa sera rincontriamo il nostro pastore Signore grazie per l'averlo riportato in mezzo a noi Signore grazie per come l'hai protetto Signore ti vogliamo pregare per lui e per i suoi figli Signore portali avanti giorno dopo giorno Signore ti vogliamo ancora pregare non vogliamo dimenticarci di quanti sono ancora nel letto di infermità Signore vuoi tu stendere la tua mano potente di guarigione Signore affinché possano raccontare i miracoli che tu ancora oggi compi Signore ti vogliamo pregare questa sera Signore per lo studio della tua parola Signore fa che possa arrivare nel profondo dei nostri cuori ma ti preghiamo ancora di più Signore aiutaci a mettere in pratica i tuoi insegnamenti Signore benedici questa riunione benedici tutto ciò che faremo nel nome di Cristo Gesù che è benedetto in eterno Siamo felici di sapere che il Signore è con noi anche con questo mezzo, con questo modo io ho riacquistata quasi tutta la voce che il tanto troppo ossigeno dei giorni del ricovero aveva abbassato sono grato a Dio di poter parlare liberamente comunque e so anche che il Signore ci parlerà attraverso la sua parola Fratello Franco, adesso tu sei pronto per farci sentire un canto seguiamolo con spirito d'adorazione e di preghiera e poi passeremo allo studio Grazie 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 E allora, siamo pronti per passare allo studio. Naomi Ciotola, come normalmente insieme a qualcun altro fa, mi aiuta a leggere i versetti. Gli altri state silenziati, salvo ovviamente Naomi Ciotola che deve leggere i versetti insieme a me. Il nostro studio, qualcuno che mi ha chiesto il nome dello studio mi ha detto sei coraggioso. Non sono coraggioso per niente. Fa parte della parola di Dio. Anch'io ho le mie debolezze, fragilità, vulnerabilità. Però la parola del Signore permane, rimane in eterno comunque e sempre. E di conseguenza, anche se siamo passati, stiamo passando, forse passeremo ancora per prove e difficoltà, la parola di Dio rimane lo stesso per sempre. Il nostro studio ha per tema il riparo certo del Salmo 34. E quindi, se volete seguire per bene il nostro studio, sarebbe buono chi può, a seconda di dove si trova e come si trova, avere una Bibbia davanti al Salmo 34. In ogni caso, la nostra lettrice provvederà a leggere i versetti. Il titolo dello studio è sicuramente un riparo certo, perché il tema è questo qua nel Salmo. Lo scrittore, il verso 1, ci dice che è Davide. E quindi andiamo certi, andiamo sicuri. La data è quando Davide si infinse pazzo e, fingendosi pazzo, cercò rifugio presso il re Filisteo. Ma quando noi facciamo le fughe, le reazioni emotive istantanee, immediate, qualche volta non lo riflettiamo. Sapete dove andò a rifugiarsi? A Gath. Gath era il paese di Golia. Quando arrivò là dovete forse saperlo meglio, o rendersi meglio ancora conto meglio, e così non ebbe altra soluzione terrena, umana, che fare il pazzo. Il re per questo motivo non lo perseguì, il re Filisteo, e disse, ne abbiamo abbastanza di pazzi, mi portate pure questo, non lo voglio qua. Davide in questo modo scampa, con questo mezzuccio, e va via. Ora, se leggete in 34.1 c'è scritto chiaro e tondo, quando si finse pazzo davanti ad Abimelech e scacciato da lui, se ne andò. Abimelech, molti che leggono la Bibbia pensano che è il suo nome. In realtà non lo è. È semplicemente il suo titolo di re. Tipo in Egitto il Faraone. Non era il nome del Faraone, avevano un proprio nome. Ma il loro titolo, reale, era questo qua. Il luogo, lo abbiamo accennato, dove era stato presente nel corso degli anni e cresciuto con il dovuto timore e tremore, il gigante Golia, che però Davide aveva ucciso. E no, mi ci legge, primo Samuele, 21.10. Davide si alzò e quel giorno riprese a fuggire lontano da Saul e andò da Achis, re di Gatto. Mi mancano forse dei pazzi. Che mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia. E quindi se la cavò solo grazie a questo. Dovremmo sempre riflettere prima di, nei guai, prendere decisioni. Perché il vero problema è che in realtà non era assennato andare a cercare rifugio del re Filisteo, della città dove lui gli aveva ucciso il campione che avevano, il gigante Golia. La prima cosa che vogliamo considerare è il riparo certo del Salmo 34 è per il credente maturo. Il credente maturo è descritto come uno che loda il Signore continuamente. Io benedirò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. E fra dirlo e farlo c'è una certa distanza da colmare. Benedire il Signore in ogni tempo, quando ci capitano le cose più sgradevoli, non è semplice. Però è possibile. Ed è possibile perché il Signore ci dà il suo aiuto, non perché noi siamo degli eroi rispetto ad altri. Abbiamo tutti le medesime vulnerabilità. Ecclesiaste 3.1 d'altronde ci insegna anche i versi 2, 3 e 4. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, per nascere, morire, piantare, tradicare, uccidere, guarire, demolire, costruire, piangere, ridere, far cordoglio, ballare. E dunque qui Salomone, e lui l'ecclesiaste, parola che indica predicatore, ci spiega che c'è un tempo per ogni cosa. È dura da ingoiare quando questi tempi non corrispondono ai nostri, quando interrompono i nostri progetti. Però il credente maturo, indipendentemente dagli eventi, dai fatti che gli accadono, deve benedire il Signore in ogni tempo. Siamo chiamati a benedire il Signore in ogni tempo. È una lote continua. È una normale esperienza del credente. La nostra Chiesa conosce molto bene Romagna 8,28 perché cantiamo quest'inno, ma naturalmente è un verso della Bibbia. Leggiamolo. Forse sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Dice Fesini 5,20, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Per ogni cosa. Quando ci accadono fatti spiacevoli noi non riusciamo a cogliere questo per ogni cosa. Ma leggevo proprio ieri la testimonianza di qualcuno che nel campo di concentramento, già questo era spiacevole, era un ebreo, si lamentò che era caduto e si era rotto una gamba. Stranamente, tra i rigori e la cattiveria dei nazisti del tempo, c'era che dovevano portarli sani ai luoghi di morte. Per la grazia del Signore, il giorno dopo, arrivarono i russi e liberarono il campo di concentramento degli ebrei e quindi scampò. Ora, uno che sta nel campo di concentramento e che sa di essere condannato a morte, non scorge Dio facilmente, ma invece Dio è sempre in alto e ci guarda, ci osserva, è pronto ad aiutarci, seppur con metri, distanze, tempi diversi dai nostri. Questo credente maturo loda il Signore interiormente. Perché lo fa? Lo vediamo tra un istante. Salmo 34, 2. Io mi glorierò nel Signore. I umili ludranno e si rallegreranno. Io mi glorierò nel Signore. Quindi questa è una cosa che sta dentro di Lui. Per quale motivo è dentro di Lui? Perché la lode è una sorgente che sta dentro di noi. Noi non ce l'accorgiamo, ma siamo sorgenti di lode. La lode esce spontanea dal nostro cuore. Non è mai capitato mentre dormivate scoprirvi a dire gloria a Dio? O che qualcuno vicino a voi ve l'ha detto? Oppure ancora, che in un momento che non avevate neanche in mente di farlo, scoprite voi stessi nel dire ti ringrazio Signore. Questo gli umili ludranno indica tutti quelli che occupano una posizione umile e bassa. E la versione dei settanta, l'antica versione dei settanta diceva gli umili ludranno e si rallegreranno con la traduzione i miti. Gli uomini, le persone miti, ludranno e si rallegreranno. È una lode interiore. Una lode interiore perché è dell'uomo interiore. Infatti noi siamo nati di nuovo e questa nascita è una nascita che ha a che fare con il nostro essere interiore. Che vi ricordo è composto il nostro corpo, anima, corpo e spirito. È importante almeno leggere Colossesi 3.10. Vedete, c'è un uomo interiore. Quest'uomo interiore accetta Gesù insieme all'uomo esteriore. Dio opera nel corpo, nell'anima, nello spirito e da allora noi diventiamo una sorciente di lode. Diciamo io benedirò il Signore in ogni tempo. Anche se il diavolo venisse a dirvi che non è proprio caso, ricordate che è un bugiardo. Non dice mai la verità. Il riparo certo del Salmo 34 poi ci parla anche di altro. È qualcosa che va narrato per testimonianza. Ricordo a tutti che noi dobbiamo parlare agli altri di Gesù. Il nostro primo compito è portare altri ai piedi del Signore. Non abbiamo nessuna speranza che possiamo, come uomini della nostra appartenenza alla Chiesa, esimerci dal parlare di Gesù. A meno che non capiti qualcosa del tipo che è capitato a me. Ho parlato nel ricovero, nel lungo ricovero per il Covid, a più di uno del Signore lì. Ma c'era una persona che aveva nel cuore di parlargli, ma in quella fase non potevo muovermi dal letto. Così ho detto a me stessa, appena sto bene mi alzo. Era una persona anziana che soffriva la sua situazione, la viveva anche con rabbia, con ira. Mi ripromisi, vado là appena mi posso alzare e gli parlo di Gesù. Arrivo là e quello mi fa. Io non sento, sono sorto. Così non ho potuto parlargli. E' l'unica eccezione. Bisognava prendere Kesia e le altre sue colleghe della nostra Chiesa di Napoli e portarle per fare il linguaggio dei segni che io non so fare. So solo parlare un po'. A parte gli scherzi, noi dobbiamo narrare come testimonianza tutto ciò che il Signore fa per noi. e dobbiamo condividere le nostre esperienze. Salmo 34, 3 e 8. Celebrate. Vai. Non ce l'ho, pastore. Ok, qualche disfunzione nel coca in gola. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Provate e vedete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Celebrate con me. La parola dell'ebraico indica un Dio grande, elevato, ma che resta accessibile. Quindi noi, non è che perché il Signore è così grande, cieli e terra, fatti da Lui, stelle infinite, galassie che camminano, non è che perché è così lontano non può venirci incontro. Vi ricordo che quel bell'inno che noi cantiamo, vedo l'opera di sua man nel cielo, non è lontano né disinteressato. Lui è interessato e come che lo è? è interessato alla nostra vita. Non solo dice celebrate il Signore, questo verso 3, ma anche esaltiamo il suo nome. Esaltiamo colui che è alto sopra ogni cosa, perché è scritto che il Signore è superiore a tutte le nazioni e la sua gloria è al di sopra dei c'è. Questa è un'esperienza che poi noi dobbiamo rievocare. 34, 4 e 6. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quest'afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito. L'ha salvato da tutte le sue disgrazie. Dunque i guai capitano pure a noi e lo sappiamo un po' tutti. Però il Signore noi lo dobbiamo ricordare sempre nelle sue bontà e dobbiamo sempre lodarlo senza privarci di farlo. 34, 5. Quelli che lo guardano sono illuminati. Nei loro volti non c'è delusione. Sono illuminati. Noi non apparteniamo a quel gruppo un po' oscuro che si definisce gli illuminati. Però noi cristiani siamo illuminati. E come che siamo illuminati? Vorrei dire con grande chiarezza che sono illuminati, altri traducono, guardavano a Lui e fiumi sgorgarono. Bello. Guardarono a Lui e fiumi sgorgarono. Non vi ricorda niente? Per esempio, senza leggerlo, Giovanni 7, 37-39. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Lui disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Cioè, quando il Signore ci riempie del suo spirito, io e voi poi diveniamo delle fonti per altri. Ecco, quando noi siamo illuminati, guardiamo a Dio e fiumi sgorgano da Dio direttamente in noi e noi li diamo agli altri di qual'importanza di spendere del tempo davanti a questo Signore. Non avremo fiumi da far sgorgare da noi se non ci dedichiamo a pregare. E quando preghiamo, spesso non riusciamo neanche a nasconderlo. Per esempio, Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il Signore. È probabile che Santo Stefano non si accorse che la gente fissava gli occhi su Lui e vedevano il suo viso simile a quello del Signore. Ma se ne accorgeva o non se ne accorgeva, Lui se ne accorgevano gli altri. E questo è importante. È narrato tutto questo nell'esperienza che viene confrontata e che va capita 34, 6 e 7. Quest'afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Notate, l'angelo del Signore. Chissà un po' la Bibbia sa che l'angelo del Signore dal primo capitolo, dal primo libro della Bibbia, cioè la Genesi, entra in campo e si manifesta come quella che viene definita una teofania, ovvero manifestazione di Dio. Perché era necessario che apparisse così? Perché nessuno vide già mai Dio e visse. Quindi Lui, la seconda persona della Trinità, veniva e appariva in questo modo chiaramente ad alcuni. E' bello anche notare che è un'esperienza da testimoniare, perché dice il verso 8 di 34 questo Salmo. Provate e vedrete quanto il Signore è buono, beato l'uomo che confida in Lui. Desidero dirvi una frase del Talmud, una raccolta di scritti ebraici. Non è la Bibbia, però per loro è importante. Il Talmud, questa raccolta di scritti ebraici, prescriveva che gli uomini saranno giudicati per i frutti esistenti e non gustati. Sapete tutto questo che cosa vuol dire? Vuol dire che, secondo la parola di Dio, noi potremmo in qualche modo avere delle esperienze da condividere e queste esperienze da condividere sono da raccontare agli altri. Provate, gustate e vedrete quanto il Signore è buono. C'è una terza cosa qui in questo Salmo 34 ed è il riparo certo del Salmo 34 è per il timorato di Dio. Riparo certo. Allora, tutti i guai che ci succedono, come fa ad essere un riparo certo? Ricordiamo un po' un dialogo, per certi aspetti misterioso. So che è difficile rendersi conto che ci fa Satana ammesso alla presenza di Dio. Eppure nel libro di Giobbe è scritto che accadeva. I figli di Dio, cioè gli angeli, si riunivano, poi compare lui e gli è consentito di andare davanti a Dio e accusare Giobbe. Gli dice certo che Giobbe ti serve, tu hai messo un riparo attorno a lui, ma toccalo un po', dammelo un po' nelle mani e poi vediamo se continua a lodarti. In una prima fase riuscì egregiamente, concludendo dure prove nel dire l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, si ha benedetto il nome dell'Eterno. Dopo ebbe le sue debolezze, ebbe delle parole sbagliate, fino a che, capitolo 42, alla fine dice Io riconosco che tu puoi tutto e che noi siamo uomini con le nostre debolezze. Importante è ricordare che dobbiamo conservare il timore del Signore. Non dobbiamo sbagliare nel parlare Sì, ma, come mai? Se il Signore l'ha permesso, sia fatta la sua volontà. È dura, ma dobbiamo sottometterci. Io desidero dirvi che il timore è importante. Pastor, stai dicendo che dobbiamo avere la paura? No, no. Il timore è un senso reverenziale di Dio. Non è la FIFA. Noi abbiamo timore di Dio nel senso che lo riveriamo come colui che è certamente il più grande. E desidero leggere con voi Salmo 34, 9. Viene ben descritto. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Temete il Signore, voi che gli siete consacrati. Intanto, chi sono questi consacrati? La parola nell'originale ebraico letteralmente è uno che si astiene e si separa. I consacrati non sono uomini che vivono nelle nuvole. I consacrati sono uomini che si astengono e si separano dal peccato. E il Signore provvede ai ricercatori questo timore di Dio. 34, 10. Salmo 34, 10. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. I leoncelli, quindi questi giovani leoni, così forti, così agili, che in qualche modo ci sorprendono per la loro vitalità. Beh, non ci crederete, ma per l'inesperienza, cioè non avere ancora imparato che si mangia e cosa non si mangia, come si mangia, dove si trova la prete e così via, un giovane leoncello potrebbe, con tutta la sua forza e vitalità, non mangiare e morire di fame. Occorre perciò la mamma che l'aiuta nel cielo.